Non sono disoccupate ma magari fanno due lavori e non riescono comunque ad arrivare in fondo al mese bene, nel senso che una spesa imprevista, una situazione difficile, possono portarli su un terreno dell'esclusione. E' a queste persone soprattutto che questo luogo, che è un luogo che noi abbiamo immaginato aperto, accogliente, con delle vetrate aperte sulle strade della città, può essere utile. In Italia una persona su quattro è a rischio povertà, una realtà che riguarda anche il territorio aretino ed è proprio per portare un aiuto concreto a chi oggi è a rischio esclusione sociale che Oxfam ha aperto un nuovo spazio in città, a Saione, quartiere negli ultimi mesi al centro delle cronache locali. Crediamo che un'organizzazione come la nostra, che è nata qui, possa contribuire a sviluppare il buon vivere in questa città, ad aumentare la coesione sociale, a dare ai cittadini e a retini l'occasione di aiutare gli altri, ma anche di trovare un aiuto concreto. All'interno del centro sarà infatti presente uno sportello antipovertà. In questo sportello i cittadini di Arezzo potranno trovare degli aiuti concreti, a partire da un orientamento sui servizi che questo territorio offre, a partire anche da servizi concreti, ad esempio un aiuto nella compilazione della dichiarazione dei redditi, ma anche un aiuto nella compilazione, ad esempio, di moduli per ricevere servizi sociali di welfare. Nei nuovi spazi sarà presente anche il nuovo Oxfam Shop. Ovviamente le filiere poi di acquisizione, diciamo, dell'idea del commercio eco e solidale hanno una pluralità di provenienze, quindi lotta allo sfruttamento, lotta al caporalato, beni confiscati dalla mafia, la lotta anche, diciamo, all'essere sottopagati. Quindi un'attenzione a 360 gradi, diciamo, sui prodotti. Io credo che questo sia, come dire, che debba in qualche modo sfidarci anche come consumatori, provare a capire che esiste anche qualcosa dietro ai prodotti e ai beni che acquistiamo.